I documentari speriamo che si rinventa una maniera nuova con i nuovi sistemi, le nuove tecniche perché adesso, almeno quelli che io vedo, credo che ne vedo molti, con una bella responsabilità anche delle reti televisive che li mettono in ore impossibili, hanno un momento di grande decadenza, però la decadenza serve proprio per aprire la porta a un'epoca nuova, quindi può darsi che con le nuove tecniche, nuovi giovani che ci lavorano, nuove idee, sia possibile che il documentario rinasca e parta con tutta la sua forza.